Presunte irregolarità in due cantiere edili sul territorio comunale di Mistretta, uno privato e un altro pubblico. Tre persone denunciate e multe ammende per un valore complessivo di circa 57.000 euro. L'iniziativa è stata dei carabinieri della compagnia di Mistretta, coordinati dal capitano Silvio Imperato, insieme agli specialisti del nucleo ispettorato del lavoro di Messina. È stato controllato un cantiere per il rifacimento di un immobile privato, all'interno del quale sarebbero state riscontrate numerose regolarità ed inoltre nell'area dei lavori erano presenti sei persone, di cui due che sono state ritenute in nero. Elevate sanzioni d'ammende per un ammontare complessivo di 45.000 euro nei confronti della ditta e del committente. Il cantiere è stato anche oggetto di sospensione temporanea, fino alla regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori non correttamente assunti. Denunciati alle autorità il titolare dell'impresa e il committente privato. Verifiche anche in un cantiere edile pubblico per i lavori di riqualificazione di una scuola cittadina. Anche in questo caso sono state segnalate irregolarità e le elevate ammende per un ammontare complessivo di 12.000 euro ed è scattata la denuncia all'autorità per il titolare dell'impresa. Dai Nebrodi all'area tirrenica. I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno predisposto un apposito piano di controlli, in particolare nelle zone della Movida. Qui, a seguito delle irregolarità contestate sulla strada, sono stati decurtati oltre 130 punti dalle patenti e otto veicoli sono stati sequestrati e sei sottoposti a vincolo del fermo amministrativo. Denunce per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche e per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Nell'ambito dell'attività antidroga, una denuncia per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché in possesso di hashish 10 persone di età compresa tra 21 e 35 anni sono state segnalate alla prefettura di Messina quali assuntori di droghe perché trovate in possesso di modica quantità di stupefacenti detenute per uso personale. La droga è stata sequestrata ed inviata ai carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio.